Ehi bella gente, The Doctor Juve è qua presente. Ma quanto è bella la serie A? Quanto? Quanto? Quanto è bella la serie A? C'è mancata ragazzi, se è stata è stata dura. Analizziamo, analizziamo, partiamo subito forte con un Napoli ragazzi clamoroso. Mi sto ricredendo e sta proprio facendo delle gran partite. È vero che non sta giocando contro squadroni e Chelsea, va benissimo. Però ragazzi oggi Kvara ragazzi, applauso, applauso a sto ragazzo perché il primo gol mi sono alzato in piedi e applaudi. Osimene, clamoroso, anche lui. Grande grande Napoli, mi sta iniziando a stupire. Oggi ha proprio messo, ha proprio messo la firma, ha detto ci sono anche io per lo scudetto. Oggi ha detto. Che dire, ha fatto gol anche Kim, il ragazzo, il difensore cinese. Ragazzo veramente, veramente bravo. Kim Jim, non mi ricordo come si chiama, scusate Napoletani. Ma Kvara ragazzi è qualcosa di veramente, veramente, è un gran giocatore, può diventare, può diventare veramente forte. Ecco ragazzo, può diventare veramente, veramente forte. Poi pensiamo alla Fiorentina, deludente, scarica, veramente scarica la Fiorentina. Allora ha giocato per la Conference contro il Tuente, si vedeva che era scarica. In dieci dal settantesimo, l'Empoli è rimasta in dieci al settantesimo, non è riuscita, non è riuscita a fare niente. Perciò deludente la Fiorentina. È vero che è un derby, però mi aspettavo molto, molto, molto di più. E poi passiamo al big match, serale. Atalanta-Milan, ma che partita. Bellissima, a me è piaciuta tantissimo, a me questi 1-1 tirati piacciono, ma vi dico la verità. Se Jim City non interviene su Origi è 2-1, ve lo dico. Però c'è da dire, voglio spezzare una lancia a favore del Milan. Quello di Jim City è rosso, quello su Leao. Cioè non può entrare a piedi a martello così sullo stinco di Leao. Mi dispiace, quello è rosso, per me lì l'albitro ha sbagliato ad ammonirlo e basta. Per me era da rosso, parere personale. Poi ragazzi, a parte le tre italiane, cioè, ma avete visto il Bayern Monaco? D'Elite, vabbè, di cosa parliamo? D'Elite è un fenomeno. 7-0 il Bayern e avete visto il PSG? Ragazzi, ma noi italiani, che tifiamo le squadre italiane, ma pensiamo davvero di poter vincere la Champions? Ma avete visto che corazzate ci sono in Europa? Non andiamo da nessuna parte. Anche il City oggi perdeva 3-1, ha rimontato. E se Oland la butta dentro, quella palla si è mangiato un gol clamoroso, ha fatto un gran gol e si è mangiato uno clamoroso. Cioè rimonta da 3-1, 4-3. Adesso domani aspettiamo la nostra Juve, la mia. Aspettiamo la Roma, vedremo. Anche se la vedo difficile la partita con la Cremonese. Ah, intanto ve ne faccio vedere una aperta, aperta, la vedete? Eh, lì il PSG, ok, X più gol l'Atalanta-Milan, Barcellona-X, 53, ok, ok. Però il Tommy non vince, eh. Il Doc non vince. E questa però è vinta a 102. Ah, 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 Carmina, uno e sì. Ti scherzo, ti voglio bene. Però questo, questo, allora, tacca, 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 allora. Ragazzi, dovete seguire il Doc. Voi non mi seguite e non vincete. In una settimana vi siete persi 400 e rotti euro. Seguitemi e vincete. Non seguitemi, niente, niente. Non vi cambiano la vita queste schedine. Attenzione, attenzione. Qua si scherza, si gioca con della testa, ma non è che si fa le schedine per non lavorare più, eh. Ragazzi, si fa le schedine per passare il tempo. Poi, se si vince e si porta qualche soldino in più a fine mese lavorando, benissimo. Se no, lasciate perdere, perché con le schedine non diventerete mai ricchi e non potete lasciare il lavoro per le schedine. Le schedine vi fanno avere un po' di soldini in più. Se mai tu avrai divinto 100 euro, il giorno dopo ti vai a comprare un paio di scarpe che ti piacciono o porti la ragazza fuori a mangiare. Così, ragazzi, ci vediamo domani in live da Carminello, nei miei video per il pre-partita Juventus, per la live reaction. Ragazzi, domani c'è la reaction del Doc. Avete visto la prima? Certo. Avete capito? Domani esplodiamo. E pensate Juve Roma. Clamorosi, clamorosi. Ragazzi, vi voglio bene, mi raccomando, non scordatevi. Attivate la campanella, iscrivetevi al canale, seguite il bollettone del Doc e fino alla fine forza Juventus e fate quel casco che vi pare. Ciao.